Nasce a Vinchiaturo il Dog Park, una zona dedicata agli amici a quattro zampe, un progetto voluto dal sindaco Luigi Valente per soddisfare le esigenze dei possessori di cani, ma anche di chi un cane non ce l'ha. Proprio nato da una duplice esigenza, quella dei cittadini che sono proprietari dei cani e che non hanno la possibilità di avere un giardino dove poterli far correre liberamente, magari vivono in appartamento. Però c'è anche l'esigenza da parte dei cittadini che in qualche modo hanno qualche timore, i genitori per i figli che giocano magari nella villa comunale o che stanno in giro, magari vedono questi cani liberi non tenuti al guinzaglio e quindi hanno diritto giustamente anche questi cittadini ad essere tutelati. Un progetto a basso costo che ha visto la collaborazione di tutti gli abitanti di Vinchiaturo e soprattutto degli operai comunali. Sì, devo dire che questa è la cosa bella. Non c'è miglior soddisfazione per un sindaco quando c'è un'idea, un'idea progettuale e poi c'è la collaborazione di tutta la cittadinanza. Noi abbiamo realizzato questo dog park davvero in economia, sono stati spesi circa 1.500 euro di materiale. Devo dire che le ditte del posto si sono messe a disposizione per darci il materiale a prezzo di costo e soprattutto grazie a loro, grazie agli operai comunali che hanno detto proprio che il sindaco non si preoccupi, lo realizziamo noi il dog park. Si sono messi di buona lena a lavorare e il risultato è questo che con una cifra veramente modica in economia abbiamo potuto dare un altro servizio utile alla cittadinanza, credo. Prossimi appuntamenti per gli amici a quattro zampe di Vinchiaturo sono le giornate gratuite del microchip. Non bisogna però tralasciare il problema della sterilizzazione. Ricordiamo purtroppo che in Molise abbiamo il più alto numero di randaggi rapportato alla popolazione. Sì, anche questo è un'idea progettuale che abbiamo come comune, so che qualche altro comune qui a vicino l'ha già realizzata. Ovviamente il costo per la sterilizzazione è molto più alto, però non è escluso che in futuro non faremo anche questo, perché come diceva giustamente lei siamo molto attenti anche a questa esigenza. La realizzazione di questo dog park con l'aiuto degli operai e con l'aiuto delle ditte del posto significa che c'è una sensibilità, questo è davvero bello e noi come amministratori abbiamo il compito di spingere in questo senso.